Questa sera è la notte dei ricercatori, un evento voluto dalla Commissione Europea in contemporanea in diverse città d'Italia, dunque anche a Trento, dove sarà permesso conoscere e visitare i centri di ricerca sparsi sul territorio. In Trentino porte aperte alla Fondazione Bruno Kessler, all'Università, all'Istituto Agrario di San Michele all'Adige, al Museo di Scienze Naturali. Adulti e bambini potranno entrare nei laboratori, potranno saperne di più sulla ricerca, confrontandosi direttamente con gli scienziati, prendere parte a veri e propri esperimenti. Nel pomeriggio di oggi lo vediamo l'anteprima al Palazzo della Provincia, con una tavola rotonda alla quale hanno preso parte anche il Presidente dell'AI, oltre alla Rettore dell'Università Bassi ed altri esponenti del mondo trentino della ricerca, in cui si è cercato di approfondire e capire l'importanza di comunicare la ricerca al grande pubblico, comunicarne le scoperte e i risultati raggiunti, che sono poi i cittadini, il pubblico al quale va diretto il messaggio, cittadini che spesso sentono parlare di importanti stanziamenti, magari concessi ai centri di ricerca, senza bene capirne il significato o l'utilizzo.